Siamo a toccarsi in questa maniera, noce della tutta, la pace e le bambamana, perché è molto depresiato, per questo, ho troppo non so. Siamo a toccarsi in questa maniera, no c'è la tutta, l'amore complementa l'amore del passato. Vendere, 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 vendere. Bamboleo, bamboleo, con il mio daggio la pretina, sì. Bamboleo, bamboleo, con il mio daggio la pretina, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.